Ciao a tutti, il no contact con il narcisista. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti appunto anche a questo canale qua, felicità e benessere. E ti ricordo inoltre che io effettuerò, farò un seminario su come sganciarsi dei narcisisti, come sedurre le persone giuste, le persone che ti interessano, venerdì 10 gennaio 2020 a Torino alle 20.45, il riferimento è 333 15 11 703. E chi non potesse partecipare ai seminari può comunque andare sulla home page del mio canale Massimo Terramasco e abbonarsi al canale. Con l'abbonamento potrà ottenere, diciamo, dei risultati molto positivi, perché potrà con l'abbonamento top ad esempio avere le registrazioni dei corsi dal vivo, quindi chi non potesse partecipare, comunque avere delle lezioni mirate anche all'abbonamento base. Bene, veniamo un attimino al tema del no contact con i narcisisti, come si effettua e dobbiamo tenere presente questo, che una volta che un narcisista o ti ha lasciato, o ti fa facendo ghosting e sparerà, o tu hai deciso di trovare la forza per, diciamo, per andartene, l'unica cosa che devi fare, fondamentale, basilare, proprio per proteggersi dalle sue tecniche manipolative e dall'abuso emotivo del narcisista, diciamo, il no contact è fondamentale. Il no contact significa non avere nessun contatto con il narcisista, quindi nessuna telefonata, nessun messaggio, nessun whatsapp, nessun messenger, insomma, nessun contatto, nessun presentarsi casualmente dove lui si trova, oppure occhio a che se questo magari viene, ti viene sotto casa, insomma, devi evitare ogni contatto, perché poi il narcisista tenderà comunque un approccio, però, perché dal contatto con il narcisista non può scaturare nulla di buono, tu devi imparare a decondizionarti. La forma di non contatto è la forma primaria di decondizionamento, perché anche nel buddismo tantrico tibetano, diciamo, il modo primario per evitare un desiderio è quello di non entrare in contatto, almeno nella fase in cui si è più deboli, con la situazione che si desidera. Poi successivamente, quando uno si è rafforzato, può anche entrare in contatto, può anche frequentare, tra virgolette, senza mantenere un distacco, ma nella fase iniziale è veramente fondamentale effettuare il no contact. Quindi ogni minima forma di contatto serve al narcisista per ricreare di nuovo un collegamento, per aumentare un po' il potenziale. E il suo fine, devi sapere che il fine del narcisista è sempre solo quello della manipolazione, per cui anche il suo tentativo di ravvicinamento non deve assolutamente essere scambiato per un interesse reale, onesto, buono nei tuoi confronti. Quindi non devi assolutamente ricadere. È come chi smette di fumare e fumare di nuovo, accettare una sigaretta da qualcuno, il giorno dopo sarà lì a comprarle. Quindi il modo migliore veramente per cui una persona possa liberarsi di un narcisista e della tossicità che il narcisista emana è quello del no contact. Questo è fondamentale. Il no contact è l'arma più potente che tu hai per annullare gli effetti del narcisista. È molto difficile magari inizialmente fare, ma quando tu inizierai a farlo ti disabituerai. Sarà un qualcosa di automatico. Noi acquisiamo abitudini e ci togliamo le abitudini. Quindi il no contact deve essere portato per almeno 21 giorni in assoluto, proprio per un primo distacco. Ma poi col narcisista devi portarlo a lungo. Deve essere alla fine un no contact totale, diciamo, e permanente. Però devi iniziare a innescarlo almeno per i primi 21 giorni. Diciamo che all'inizio, come dire, come tutte le cose, per acquisire un'abitudine ci vuole un po' di volontà, un po' di forza di volontà. Bisogna resistere, come quando uno fa una dieta e vuole abituarsi a un minimo di regime alimentare nuovo. Ci vuole un po' di tempo inizialmente per abituarsi. Però poi, dopo, avviene diciamo abbastanza naturalmente. Però devi mantenerlo, quindi questa è la cosa fondamentale. Devi mettere sull'altro piatto della bilancia la tua dignità. Se riuscirai a fare questo, vedrai che acquisirai notevole forze individuali e la tua vita inizierà a viaggiare su piani migliori. Per questo video, comunque, è tutto. Ti ricordo che venerdì 10 gennaio 2020 a Torino alle 20.45 farò un seminario proprio su come sganciarsi dei narcisisti e come conquistare e sedurre le persone difficili, che non sono narcisisti ovviamente. Il riferimento è il 333 15 11 703. Nel box lascio comunque le info. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai corsi può sempre andare sul canale Massimo Terramasco, sulla home page e abbonarsi. Con questo abbonamento potrà trovare molte cose interessanti, tra cui, ad esempio, a livello top, la registrazione dei corsi, vari, che faccio in giro dal vivo, a livello base, delle interessanti lezioni, diciamo, mirate. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco e iscriviti al canale. Ciao a tutti!